Buongiorno a tutti. In questo video cercherò di definire che cos'è il concetto di intelligenza. Sul concetto di intelligenza ci sono tantissime teorie. Io vorrei un po' magari darvi qualche spunto sulle teorie, ma soprattutto partire dall'approccio ideografico, cioè più che nomotetico, cioè dal punto di vista degli studenti, per esempio, degli studenti che sono quelli che, insomma, all'età dell'adolescenza, della pubertà, è il momento in cui si apprende di più e in cui ci si formano le teorie implicite sull'intelligenza, cioè che cosa noi pensiamo che sia l'intelligenza. Abbiamo fatto qualche anno fa, con un collega, una discussione con gli studenti da cui sono emersi alcuni punti di vista. Abbiamo fatto proprio scrivere su dei fogli che cosa pensavano gli studenti che fosse l'intelligenza, che cosa per loro potesse rappresentare l'intelligenza, che cosa invece non rappresentava l'intelligenza. Sono uscite fuori varie teorie, varie situazioni. Alla fine si è fatta una discussione in classe per definire questo concetto. Poi vi dirò la conclusione finale. Però prima vorrei partire facendo una digressione su quante teorie esistono sull'intelligenza. Esistono teorie unitarie, come quella del coefficiente G di Spearman, secondo la quale l'intelligenza è una capacità della mente che noi abbiamo fin dalla nascita ed è un fattore unitario che si può in qualche modo misurare, insomma, identificare. E chi ce l'ha è intelligente, chi non ce l'ha non è intelligente, in sostanza. E da questo fattore unitario derivano poi eventualmente fattori specifici. Poi ci sono teorie globali maturative, secondo cui l'intelligenza si sviluppa in varie fasi a seconda dell'età e quindi queste teorie sull'intelligenza sono state alla base dei test del QI, del Custiente Intellettivo, di Weschler ad esempio. E anche queste sono, insomma, discusse, sono stati oggetti di critica. Adesso poi cercheremo di capire il perché. Perché età mentale, età cronologica, se l'età mentale non coincide con l'età cronologica, allora il ragazzo bisogna certificarlo, bisogna dargli gli insegnanti di sostegno, in sostanza. Questo è stato l'esito dei famosi test del QI. Poi ci sono teorie più avanzate, plurifattoriali, come quelle delle intelligenze multiple di Gardner, secondo la quale non esiste un fattore unico di intelligenza, ma esistono tanti fattori. Quindi esiste l'intelligenza spaziale, l'intelligenza cinestesica, l'intelligenza sportiva, l'intelligenza anche spirituale, addirittura sono stati identificati tanti tipi di intelligenza, musicale, matematica, come si chiamava, vabbè comunque aveva a che fare con la matematica, intelligenza verbale e linguistica, anche i test del QI poi si sono divisi in test verbali e in test di prestazione, quindi le prestazioni sono una cosa, il saper articolare un discorso è un'altra. Poi sono state trovate delle correlazioni tra caratteristiche di personalità, come ad esempio l'estroversione e l'introversione, e i risultati che si ottenevano in test del QI. Quindi in qualche modo possiamo trovare delle correlazioni tra l'intelligenza e alcune caratteristiche di personalità che aiutano a sviluppare l'intelligenza. E questo porta a una visione dell'intelligenza più maturativa, cioè più legata all'esperienza, all'ambiente, che a fattori che abbiamo fin dalla nascita e che ci contraddistinguono. Infine poi ci sono le teorie gerarchiche, ad esempio, secondo la quale c'è un fattore generale di intelligenza e poi ci sono dei fattori specifici che hanno una gradualità, insomma, un ordine di importanza. Ad esempio a questo hanno portato la distinzione tra intelligenza fluida e intelligenza cristallizzata. Quella fluida è la capacità di risolvere dei problemi nuovi e indipendente dalla cultura e dall'ambiente. Quella cristallizzata invece è legata all'apprendimento, per esempio, della lingua, della capacità di comunicare con gli altri, però si apprende attraverso, e non è culture free, quindi si apprende a seconda del tipo di cultura, perché se noi facciamo lo stesso test di intelligenza che applichiamo noi, il test di cui lo facciamo per esempio degli africani, otteniamo dei risultati molto bassi, ma questo non significa che gli africani sono meno intelligenti, significa che hanno una caratteristica di intelligenza diversa. Poi ci sono le teorie sociocognitive sull'intelligenza, teorie cognitiviste, diciamo, e legano sono per esempio l'intelligenza, la capacità di elaborare le informazioni, alla memoria di lavoro, alla velocità con cui vengono elaborate le informazioni, pensiamo al famoso Idio Savant, il genio di Rain Man che riusciva a leggere un libro velocemente, a memorizzare tutto quello che era contenuto nel libro, leggendo addirittura con un occhio una pagina e con l'altro occhio l'altra pagina, insomma comunque nello stesso tempo simultaneamente, quindi la velocità con cui riusciva a elaborare le informazioni indicavano la sua intelligenza, però proprio riferendosi a Rain Man, se ci pensiamo Rain Man era intelligente in un campo, che era un suo campo specifico, in alcune sue abilità specifiche, ma altre abilità che comunque sono importanti per l'adattamento e per la sopravvivenza, non erano così sviluppate lui le abilità sociali, le abilità comunicative, invece le abilità di ragionamento, di interpretazione di un testo, di analisi di alcuni particolari molto specifici di una situazione o anche di alcune globalità, perché quando cadevano i fiammiferi, un pacchetto di fiammiferi, lui riusciva a contare quanti ce ne fossero e a dare la risposta. Comunque adesso io voglio leggervi un po' qualche risposta degli studenti relative al concetto di intelligenza. Leggiamo cosa ha detto per esempio questo studente. L'intelligenza è presente in uno di noi, il problema è come viene utilizzata. Questo può essere un punto di vista di uno studente. Altro punto di vista, vediamo. L'intelligenza è un fattore intrinseco di ogni persona ed è la capacità di apprendere fattori esterni. Un fattore molto importante è l'educazione e l'insegnamento che una persona ha. Intelligenti si diventa con l'istruzione e sottoponendosi praticamente a test, mettendosi alla prova e cercando sempre di spingersi oltre i propri limiti. Una persona che vive in un ambiente mediocre non riuscirà mai a migliorarsi e a diventare più intelligente. Quindi fattore intrinseco però secondo questo studente l'intelligenza dipende molto dall'educazione. Diciamo che analizzando un po' le risposte dei studenti, la maggior parte di loro ritengono che l'intelligenza è un fattore innato che o ce l'hai o non ce l'hai, se non ce l'hai sei spacciato. Qualcuno però poi si rende conto magari con la sua esperienza che si può comunque migliorare l'intelligenza. C'era una famosa psicologa, Carol Dweck, non so se si legge così, che sosteneva che appunto noi possiamo dividere gli esseri umani in due categorie. Gli entitari, cioè quelli che richiedono che l'intelligenza, la personalità, le caratteristiche insomma di una persona siano fisse e mutabili, no? Gli entitari, come in filosofia potremmo chiamare gli essenzialisti, no? E invece gli incrementali ritengono che tutti questi tratti, tutte queste caratteristiche si possono migliorare, possono aumentare, insomma evolversi nel tempo. Quello sono alla base poi delle teorie maturative dell'intelligenza, no? Questo studente cosa dice? L'intelligenza è una caratteristica che possiede ogni persona. Può essere innata e dipendere dall'educazione. Quindi alcuni danno queste due possibilità. Oppure l'intelligenza per me è l'essere e non essere. Essere intelligente per me significa essere informato su tutto e essere pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Oppure abbiamo l'intelligenza è una caratteristica di tutti gli esseri viventi. Secondo me non è innata, ma viene attraverso un'educazione, uno studio in tutti gli anni della tua vita. Quindi forse in questa classe c'erano più incrementali che entitari. L'intelligenza è saper risolvere problemi più velocemente rispetto ad altre persone. Chi è più intelligente è capicciata migliore rispetto a chi non è intelligente. Dipende molto dall'infanzia che hai avuto. Quindi questo, cioè, un po' di ambientalismo vedo in tutte queste risposte. L'intelligenza per me è una persona che apprende subito, non come e c'è il nome di un suo compagno. Vabbè, questo comincia ad essere razzista attraverso le teorie di intelligenza, insomma, come poi è successo nella storia, perché le teorie di intelligenza sono state delle teorie per discriminare chi era intelligente da chi non era e per trovare delle eventuali forme di cura o di segregazione per chi non era ritenuto intelligente. Pensiamo all'ombroso che voleva dimostrare che gli africani erano meno intelligenti a seconda della dimensione del loro cervello, delle loro caratteristiche fisionomiche che avevano. L'intelligente lo vede... vabbè, ma alcuni non... criticava tanto il compagno, poi questo non sa neanche scrivere. L'intelligente lo vede come una persona seria. L'intelligente lo vedo come una persona seria, quindi cercate di descrivere, domanda anche che avevo fatto agli studenti, come vedete una persona intelligente? Una persona seria, con gli occhiali, abbastanza piccola di statura e fa il nome di un altro compagno, un po' come un professore, fa il nome di un professore. È una cosa innata, quindi finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire quello che pensa. L'intelligenza è tutto ciò che deriva dalla curiosità, quindi questo dà importanza alla curiosità. La curiosità aumenta le nostre conoscenze e ci rende sempre più curiosi. Vabbè, un tanto autologia, per dire quanto era importante per quel suo studente la curiosità. L'intelligenza è il frutto di curiosità, ripetendo il concetto. La curiosità in alcuni è innata, casi particolari, ma nella maggior parte dei casi dipende dall'educazione dell'ambiente. Una persona che ritengo molto intelligente è Albert Einstein. Infatti cita proprio la frase di Einstein. Io non ho particolari talenti, sono solamente molto curioso. Quindi per questo studente uno fattore importante di personalità o di caratteristiche diciamo particolari dell'individuo, come la curiosità, è sintomo di intelligenza. Infatti alcune teorie legano per esempio l'apertura mentale, che è una caratteristica di personalità, all'intelligenza, oppure l'estroversione ad alcune forme di intelligenza, come per esempio l'intelligenza prestazionale. Mentre l'introverso è più legato all'intelligenza di tipo verbale, per esempio. Quindi alcuni studi hanno correlato, diciamo, le caratteristiche di personalità all'intelligenza. Quindi questo studente ha fatto un buon ragionamento. Vediamo altre risposte. Intelligenza è la capacità che ha una persona con i neuroni più sviluppati di altre persone, non come e fa il nome di un suo compagno. Una persona intelligente deve avere un atteggiamento come se fosse superiore. Quindi è più importante quasi che si mostri intelligente. Come il prof e fa il nome del prof. È una cosa innata che solo le persone intelligenti hanno. Quindi, insomma, anche qua abbiamo le teorie innatiste che a volte predominano. L'intelligenza è la capacità di un individuo di interpretare una situazione e di adattarsi ad essa. Parte dell'intelligenza è nata, mentre parte, penso, deriva dall'ambiente in cui uno è cresciuto. Quindi questa è una teoria più giusta, più maturativa. C'è una parte innata che comunque dipende da dove vieni, dai tuoi geni, da proprio le caratteristiche di nascita e c'è una parte che si sviluppa con invece l'ambiente e le esperienze. Ah, qui c'è solo una risposta, una frase. Pensare prima di fare le cose. Non so se è una cosa che a questo studente è derivata dalla sua esperienza personale oppure da quello che gli hanno detto i genitori. Per me l'intelligenza è riuscire ad apprendere qualcosa molto velocemente, quindi come le teorie cognitiviste. Ad esempio, se leggi qualcosa è semplicemente dopo averlo letto una sola volta lo si apprende immediatamente. Una persona intelligente potrebbe avere la caratteristica di riuscire a trovare la soluzione ad un problema ragionando. Quindi un problema nuovo ragiona e risolve e trova la soluzione. L'intelligenza è nata, ovviamente, se no lo saremo tutti. Chi non vorrebbe diventarlo? Un'immagine, persona intelligente, un compagno di classe che ragionando studia e non qualcuno che studia memoria. Siamo tutti bravi a studiare, così serve solo la voglia. Quindi l'intelligenza è innata, secondo questo studente. Quindi ci si arriva più a risolvere un problema di esprimere attraverso il ragionamento che attraverso la memoria. Cioè, in realtà, servono tutte e due. E queste facoltà cognitive, queste funzioni cognitive sono poi collegate a quella che vogliamo chiamare intelligenza, che poi non sappiamo bene neanche cosa sia. L'intelligenza è la capacità di capire il mondo che ci circonda e mettersi a disposizione per far sì che la società progredisca, sia socialmente che tecnicamente. Una persona intelligente sa cos'è il bene o il male. Queste sono caratteristiche molto importanti. Cioè, queste sono state cose dette anche dalle psicologi che collegavano la moralità, per esempio, all'intelligenza. Ok? Poi il fatto di... l'intelligenza di mettersi a disposizione degli altri. Cioè, non solo, quindi, ampliare le proprie difficoltà cognitive, ma anche fare in modo che il mondo migliori, dare dei contributi significativi per il mondo. Non mi ricordo di chi era una frase di uno psicologo che aveva scritto questa cosa. Forse era Weschler. Proviamo a leggere la definizione di Weschler, di intelligenza, quella che ha individuato le scale Weschler, che sono alcune per misurare l'intelligenza. L'intelligenza non è una particolare abilità, ma una competenza generale, una capacità globale che in un modo o nell'altro consente ad un individuo di prepararsi alla comprensione del mondo e ad affrontare le sfide. Questa era una definizione, sì, particolare di intelligenza, però c'era un'altra che non mi ricordo dove l'avevo letta, che era proprio di uno psicologo che dava una definizione di intelligenza legata anche alla capacità di dare dei miglioramenti per gli altri, di far progredire una determinata società. L'intelligenza è saper analizzare, ragionare, con... a volte è fatica leggere quello che a volte scrivono gli studenti, con portarbo... utilizzare la conoscenza acquisite, in modo non standard, dice. L'intelligenza di una persona dipende dall'educazione e dall'ambiente in cui si trova. Una persona intelligente non indossa i vestiti costosi, per esempio Steve Jobs, come esempio di intelligenza. Quindi ci sono alcune, diciamo, stereotipi legati alle persone intelligenti che hanno determinate caratteristiche, diciamo. Intelligenza. Una persona, secondo me, per essere intelligente deve essere riflessiva, ovvero pensare prima di parlare. L'intelligenza è innata, ma col tempo può essere valorizzata soprattutto nell'ambito sociale quotidiano. L'intelligenza, secondo me, si può manifestare attraverso l'indifferenza che per me solo in pochi sono capaci di applicare nella vita quotidiana. Forse qui abbiamo un concetto filosofico, la tarassia, no? L'intelligente di saggio, secondo me, è una persona che è indifferente a tutti i problemi che si mette la gente attorno a sé per delle cavolate, insomma, in sostanza, detto in parole povere. L'intelligenza è un fattore che tutti gli esseri umani sviluppano da quando sono bambini. L'intelligenza è una caratteristica che usiamo per apprendere e svilupparci in modo da essere coscienti di noi stessi. Poi ci sono altre riflessioni. L'intelligenza ai giorni d'oggi viene rappresentata da alcuni fattori particolari e che non saltano subito dall'occhio, ad esempio l'altezza, gli occhiali, interazione nelle lezioni e aspetto fisico, come vestiario, eccetera. Vabbè, dice che ci sono alcuni aspetti, non è specificato molto, che sono stereotipicamente collegati all'intelligenza. Allora l'intelligenza nel cui individuo è nata e continua a svilupparsi con la crescita, ma in altri individui dipende dall'educazione e dall'ambiente in cui l'individuo cresce. Quindi per alcuni è nata, per alcuni non lo è. Una persona che rappresenta l'intelligenza per me è Einstein, scritto Einstein. Ultima riflessione. L'intelligenza è la capicetta dell'individuo di saper ragionare liberamente. Questo è bello, mi piace. Una persona intelligente è in grado di apprendere un concetto prima di avere più idee. Quindi prima si fa un'idea del concetto, poi il concetto che cosa rappresenta e poi si forma le idee. Anche Cartesio parlava di idee innate, no? Cartesio era un identitario dell'intelligenza, no? Un entitario, cioè l'intelligenza era proprio fatto da idee innate che le persone o ce l'avevano o non ce l'avevano. L'intelligenza è nata, ma può essere influenzata dall'ambiente e dall'educazione. Quindi direi che in questa classe, che era una classe terza mi sembro, quarta, comunque c'era un po', ma c'era, avevamo fatto prima un escurso su varie teorie di intelligenza e quindi probabilmente gli studenti hanno un po' ripetuto, no? Perché molto spesso c'è l'acquiescenza quando si fanno dei test, cioè il voler rispondere per soddisfare quello che si aspetta dall'esaminatore piuttosto che di esprimere. Quindi forse non avremmo dovuto, prima di fare questo test, fare un escurso sulle teorie di intelligenza, no? Però poi in questa classe abbiamo fatto delle riflessioni e siamo arrivati, cioè uno studente, vabbè, sono emersi appunto questa... alcuni erano innatisti, quindi pensavano che l'intelligenza fosse un fattore innato che o ce l'hai o non ce l'hai, e alcuni invece erano ambientalisti, quindi pensavano che... che appunto l'intelligenza fosse... si potesse sviluppare, fosse anche frutto dell'ambiente, dell'educazione. Però poi la riflessione più interessante, in conclusione, è stata fatta da uno studente che ha detto che l'intelligenza in realtà è un costrutto, è un concetto relativo che può essere definito in ogni modo, no? Quindi può essere una particolare capacità della mente, un modo di pensare, un modo di agire e comportarsi, quindi può essere innata dovuta a caso, trasmessa dai genitori, frutto dell'educazione dell'ambiente, no? Che può contare per l'intelligenza, può essere legata alla memoria, può essere legata al ragionamento, alla riflessione, può essere legata alla voglia di conoscere, al desiderio di imparare, alla motivazione, quindi ad altri fattori. Può essere educata dall'esperienza della vita, da leggere, scrivere, studiare, imparare dagli altri, quindi dalle relazioni che siamo in grado di stabilire con gli altri, quindi ci sono tante caratteristiche che può avere l'intelligenza. Però lui diceva che l'intelligenza alla fine è stato un costrutto che gli uomini hanno costruito per far andare a meno una società e discriminare le persone che non erano intelligenti e selezionarle e farle, insomma, in qualche modo anche il fatto dei voti scolastici servono, se vogliamo, per selezionare quelli più bravi da quelli meno bravi e bloccare quelli meno bravi. Quindi l'intelligenza, infatti i test del cui sono stati criticati anche per quello, perché vengono utilizzati per comunque poi attuare degli interventi nei confronti di chi ha un cui meno elevato, insomma, e poi ci sono state tutte le teorie che abbiamo già detto di Lombroso e di tanti altri che, insomma, sono state... abbiamo un libro di Gold, Intelligenza e pregiudizio, che vi consiglio di leggere, che parla proprio di tutte queste varie teorie del passato e di come le teorie sull'intelligenza sono state utilizzate per discriminare alcune persone. Bene, sono stato un po' lungo in questo mio video, quindi vi saluto e certo c'è tantissimo da dire sull'intelligenza, quindi la discussione rimane comunque ancora aperta anche a prossimi video, magari un po' più brevi. Arrivederci a tutti.